Cari amici di Vili TV, in mezzo a questo tepore decisamente poco invernale, essendo comunque il 23 dicembre diciamo che al sole si sta ancora piuttosto bene, pronti per partire questo nuovo appuntamento con le riflessioni di calcio, puntata numero 18, dedicata appunto al campionato di serie A, che ha visto disputarsi in questo turno infrasettimanale gran parte della penultima giornata del girone d'andata, la diciottesima appunto, dico appunto gran parte perché comunque due partite, per ovvi motivi, essendoci comunque alle 17.30, la supercoppa italiana tra Juventus e Milano sono state rinviate appunto Bologna, Milan e Crotone Juve che si disputeranno solo mercoledì 8 febbraio, quindi per un bel po' resteremo con queste 4 squadre con una partita in meno. Quindi per quanto ho potuto vedere questo turno infrasettimanale ultimo dell'anno solare 2016, spaccio quindi alle squadre in lotta per le posizioni europee, in particolare per il secondo posto. Nel turno è disputato comunque gran parte giovedì 22, cioè ieri, turno che comunque è stato aperto con due anticipi in due giorni diversi e questa è un po' l'anomalia di questo turno. Infatti si è partiti martedì 20 appunto con l'anticipo di Bergamo che ha visto l'Atalanta imporsi in rimonta sull'Empoli per 2-1. Gli Eurobaci così che ritrovano il successo dopo tre giornate ha deciso, dopo il vantaggio di Mice e Delizze all'inizio di ripresa, le reti di Cassi e poi a quarto di recupero il gol in misca di D'Alessandro, il primo centro in stagionale per il trequartista orobico. E così l'Atalanta sale a quota 32 e può continuare a legittimare i propri sogni europei. Vedremo se nel 2017 saprà ottenere questo storico piazzamento o se comunque si accontenterà di un tranquillo posizionamento a metà classifica. Finché può sognare, ovviamente deve continuare a crederci, anche perché ha dimostrato che le sconfitte con Juve e Udinese erano comunque un fatto isolato. Peggio invece va per l'Empoli che ora rischia di aversi trascinato ancora in brutte zone e quindi dovrà fare qualcosina di più nel 2017 ovviamente per provare a cambiare un po' la situazione. Bene, poi mercoledì sera 21, anticipo invece a San Siro che ha visto il successo dell'Inter, un netto 3-0 sulla Lazio, la rete di Banega e poi la doppietta di Icardi che così è capocannoniere solitario, chiude l'anno da capocannoniere solitario con 14 gol e l'Inter che per la prima volta vince tre partite di fila e anche lui può sognare ancora la Champions. La Lazio invece che resta comunque in una buona posizione di classifica, resta quarta in classifica grazie anche al rinvio della partita del Milan, però denota grossi problemi appunto con le grandi, insomma grandi con le piccole e piccole con le grandi perché ha comunque perso con la Juve, ha perso con il Milan, ha perso i derby e ora ha perso anche con l'Inter, ha fatto punti solo a Napoli e quindi davvero problemi con le grandi per la squadra di Simone Inzaghi che di certo ha fatto un buon campionato ma appunto denota problemi contro le squadre di grande rango. E comunque vabbè, la situazione che l'Inter con Pioli sembra un po' essersi rialzato, adesso vedremo. Passiamo ora a tutte le partite del mercoledì, in particolare appunto quelle di Roma e Napoli. I giallorossi hanno mantenuto il secondo posto grazie al 3-1 in rimonta al Chievo, tanto che erano stati i veronesi a passare vantaggio per prima con De Guzman, poi la rimonta della Roma che nel recupero al primo tempo appareggiato con Asciarawi, quindi il gol di Zecco e poi il solito rigore di Perotti, diciamo il sesto gol su sei rigore, praticamente sei gol tutti su rigore per l'argentino, e così la Roma è riuscita a spingere l'attacco del Napoli che però a Firenze non è andato oltre un triplo pari, un 3-3 davvero spettacolare. Il vantaggio del Napoli è arrivato per primo con Insigno, un gol però viziato in una posizione iniziale di fuorigioco, poi dopo il lamentere per una mancata espulsione di Kalini, ci ricordiamo il tuffo in aria che era già munito, poi l'arbitro non l'ha espulso, la Fiorentina ha pareggiato nella ripresa con una punizione di Bernardeschi che è stata deviata, poi il vantaggio col solito Mertes, un dicesimo gol in campionato e ottavo nelle ultime tre gare, che ha approfittato di un errore della difesa viola, ma subito l'immediato pari di Bernardeschi, ancora lui, 9 gol in questo campionato. Poi è arrivato addirittura il vantaggio del 3-2 di Zarate e in Napoli è riuscito a metterci una pezza nel finale con un rigore trasformato da Gabbiadini, che così porta il 3-3, evita una sconfitta al Napoli, però vede allontanarsi perché la Roma a questo punto scatta a più 3 e quindi per il secondo posto si fa un po' dura. Roma che al momento è a meno 4 dalla Juve, ma ovviamente non c'è da contare il distacco perché ovviamente la Juve giocherà tra diverse settimane a recupero di Crotone, quindi è inutile contare il distacco virtuale o no. Per quanto riguarda poi le altre partite, sbocci e spicca il successo anche del Torino che ha battuto per 1-0 in Genua con l'inizio di ripresa del solito Gallo Belotti a quota 13 così come Gieco e così il Torino continua anche lui, così come l'Atalanta, a sognare un posto europeo. Tra l'altro credo che con questo punteggio i Granata abbiano scavalcato la Fiorentina in classifica e si siano portati credo al settimo posto e quindi possono continuare a sognare. Invece Genua finisce l'anno in flessione perché dopo il cappo clamoroso col Palermo arriva anche questo dell'Olimpico di Torino, naturalmente. Poi vabbè, cosa resta nel pomeriggio? Resta il successo in rimonta del Cagliari che si scrolla addosso le tossine delle ultime sconfitte superando con un spettacolare 4-3 il Sassuolo. Vantaggio che per il Cagliari è arrivato per primo con Sau, poi la rimonta del Sassuolo con il gol di Aja Pong, il primo in Serie A di Pellegrini e di Acerbi su rigore. Ricordiamo che il Pellegrini dopo il gol si è fatto espellere e da qui è iniziata la rimonta del Cagliari che è segnato prima con Borriella, poi la doppietta di Farias che è consentito così a Cagliari di portarsi colta 23, di staccare il Sassuolo che resta quintultimo da solo e di trascorrere così un Natale un po' più tranquillo. Aja ovviamente la difesa continua a prendere gol e di certo il Cagliari nel mercato di gennaio dovrà fare qualcosa per sistemare il reparto arretrato. Sassuolo che dovrà sicuramente recuperare molti infortunati perché ieri ancora una volta è seguito l'ennesima rimonta con due gol di vantaggio come è già successo diverse volte. Poi, vabbè, cos'altro resta? Restano poi solo due pareggi, credo di averli già fatti tutti, restano due pareggi, quello della sfida salvezza del Barbera tra Palermo e Pescara, il Palermo che era passato in vantaggio con Quaison nel primo tempo, poi dopo che al Pescara è stato tolto un gol che sembrava buono non mi ricordo più chi l'ha segnato quel gol so che gli hanno tolto un gol ha dato un rigore, che poteva essere un po' dubbio trasformato da Biraghi, un difensore così Palermo si arresta proprio a corsa va a quota 10, Pescara va a quota 9 aggancia a momento il Crotone, resta tutto lì L'Empoli a quota 14 può respirare un pochino però è chiaro che a questo punto, se non verrà coinvolto il Sassuolo a quota 17, la lotta salvezza, sarà anche tra quelle due squadre lì certo non sono bene definite ancora le tre posizioni perché come vedete continuano a cambiarsi ancora continuano a cambiarsi ancora le posizioni continuano a cambiarsi i posti una volta l'ultimo il Crotone poi è stato l'ultimo il Palermo ora è ultimo il Pescara, ora è ultimo in compagnia ancora non si sono definite bene le ultime tre posizioni magari, chissà, anche l'Empoli potrebbe essere risucchiato se continua così tra l'altro dopo la ripresa del campionato ad aprire il 2017 calcistico sarà proprio la sfida salvezza credo tra Empoli e Palermo se non sbaglio e quindi ne vedremo ancora delle belle per quanto riguarda la zona bassa della classifica e poi per chiudere il programma appunto lo 0-0 tra Sampdoria e Udinese disputato appunto a Marassi anche qui non c'è tanto da dire sono fra due squadre che paiono abbastanza tranquille in classifica soprattutto i feriulani che quindi davvero hanno accolto con simpatia il pareggio di Genova e per entrambe le squadre quindi non dovrebbero esserci grossi problemi condurre in porto il loro campionato bene diciamo che per quanto riguarda questo puntato numero 18 finisce qui anche perché appunto mancano due partite all'appello che le vedremo soltanto a febbraio intanto appuntamento grande oggi con la Supercoppa italiana in programma appunto alle 17.30 ora italiana credo che laggiù a Doha siano già le 21.30 credo a quell'ora lì vabbè diretta su Rai 1 per l'edizione della Supercoppa italiana Juve a caccia dell'ottavo successo Milan invece del settimo che lo aggancerebbe in testa le vittorie finora la statistica dice che chi ha partecipato come vincitore sia di Scudetto che di Coppa Italia ha poi sempre vinto anche la Supercoppa magari il Milan potrà invertire questa tendenza ho letto di un possibile tridente bianconero Iguain, Mandzukic e Dybala sarebbe fantastico ma spero che non si squilibri troppo la squadra noi vedremo per quanto riguarda appunto riflessioni di calcio ci sarà ancora uno speciale appunto dedicato alla Supercoppa italiana e poi andremo in vacanza torneremo nel weekend appunto dovremo tornare lunedì 9 gennaio per l'assunto dell'ultima giornata del girone d'andata che appunto riprenderà nel weekend da 7 all'8 quindi passato l'epifania e tutto quanto bene qui non resta altro che salutarci qui per questa settimana non resta altro che augurarvi comunque delle buone festività e comunque appuntamento a domani per il riassuntino sulle Supercoppa italiane ciao e alla prossima